Due guide per scoprire, capire e amare l'arte contemporanea in Toscana. Le due pubblicazioni sono state presentate al Centro Pecci di Prato. L'obiettivo è quello di far conoscere al pubblico tutte le esposizioni e le opere d'arte contemporanea presenti nella nostra regione. Le due nuove guide sono curate dal Centro Pecci con il sostegno di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica e sono a disposizione del pubblico sia in cartaceo che sul web. Raccontano una Toscana fatta di musei, spazi pubblici e privati, festival, eventi. Sappiamo quanto è complessa far apprezzare l'arte contemporanea. In questi anni ci siamo mossi invece in questa direzione, promuovere, sostenere la creatività ma allo stesso tempo anche sostenere la creatività e farla conoscere alle comunità in cui questa creatività si esplica. I due volumi si chiamano My Art Guide Toscani e Toscana Contemporanea. In una regione dall'enorme patrimonio storico e paesaggistico si vuole restare al passo con i tempi, guardando al futuro. L'afferta turistica che promuoviamo con la pubblicazione di queste due guide è orientata ad una visione non convenzionale della Toscana. Alla convinzione che insieme ad una storia straordinaria ed unica di questa regione debba unirsi una narrazione rivolta al futuro e alla contemporaneità. Toscana che è terra di rinascimento ma in senso lato un rinascimento continuo, vivace e diffuso. L'idea che questo rinascimento arriva a generare innovazione e arriva a generare anche nella contemporaneità arte e questa arte è talmente diffusa che abbiamo realizzato una guida di itinerari che in moltissimi paesi, centri di espositivi, piazze, comuni della regione, giardini e spazi all'aperto si trovano un'infinità di opere di arte contemporanea e di artisti importantissimi. Grazie. Grazie. Grazie.